Dalle 22 di ieri anche in campagna si è aperta la piattaforma vaccinale ai cittadini di età minima di 12 anni, eliminando così le modalità di vaccinazione per fascia d'età. Le convocazioni che seguiranno nei prossimi giorni saranno effettuate in base alle dosi di vaccino disponibili e al completamento delle fasce d'età per le quali la piattaforma era già aperta, e quanto fa sapere l'unità di crisi della regione. Si comunica inoltre che per la fascia 12-17 il vaccino somministrato sarà Pfizer. Proseguono invece le vaccinazioni al centro vaccinale di Torre del Greco. L'Asla Napoli 3 Sud fa sapere attraverso la trasmissione dei dati che le dosi totali somministrate nel centro vaccinazioni territoriale di largo annunciazione sono 32.838. Proprio in vista dell'incalzare delle vaccinazioni si incrementa anche il turismo con le isole covid-free, Ischia e Procida, che si confermano meta tra le più affollate in Campania, proprio durante il ponte del 2 giugno. Secondo la capitaneria di Porto di Ischia, tra navi e dagli scafi i turisti sbarcati in città sono oltre 7.500, con spiagge, ristoranti e parti idrotermali andati completamente sold out. Ottime anche le presenze e le prenotazioni nelle strutture ricettive. I turisti si sono infatti divisi tra coloro che hanno scelto il weekend del 28 maggio per da vita alle proprie vacanze e chi ha rinviato a domenica 6 giugno. Numero importanti anche per Procida, che vede sbarcare a Marina Grande in occasione della Festa della Repubblica oltre 4.400 persone, rendendo l'isola affollatissima. Non sono mancati disagi agli ormeggi per mancanza di posti sufficienti a bordo dei mezzi in partenza da e per le isole. Disagio causato dall'ancora vigente divieto di imbarcare più del 50% dei posti disponibili a bordo delle imbarcazioni, come da normativa anti-covid. Anche a Torre del Greco, in occasione del 2 giugno, i cittadini si sono concessi una giornata di relax, sfruttando i primi spunti di libertà da covid-19. La giornata di sole ha permesso ai cittadini e anche dei paesi limitrofi di recarsi sul litorale e affollare le spiagge. Segnali incoraggianti, in vista di un'estate, all'insegna della prudenza.